Un grandissimo ospite stamane per Iante.it, il sindaco di Colonnella Leandro Polastelli. Buongiorno sindaco, che tra l'altro rappresenta in questo momento anche l'Unione dei Comuni della Val Vibrata. Quindi è un discorso che stanno affrontando tanti comuni perché se non si sta insieme non si riesce a fare nulla. Ma a parte Colonnella, come tanti altri comuni, i problemi sono quotidiani, però è insieme che si riesce a fare un po', almeno cercare di avere voce in capitolo su quelli che sono i problemi quotidiani. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto dei sindaci in passato che hanno avuto l'intuizione di questa Unione dei Comuni che in questo momento oltretutto è un vantaggio perché sappiamo che le normative nazionali stanno tendendo un po' a accorpare i comuni. Noi ci siamo già accorpati da più di dieci anni e quindi gestiamo un po' diverse funzioni già in associazione fra cui i rifiuti, il sociale, la protezione civile, il catastro, quindi tutte azioni che facciamo sul territorio in modo combinato con dei risultati eccellenti perché siamo tutti comuni di Ciclone in Abruzzo e in più abbiamo la più alta percentuale di differenziato con i minimi costi a livello regionale. Ecco, poi diciamo che avete anche un valore aggiunto, ne stiamo parlando prima di andare in onda, che avete il neoassessore regionale Dino Pepe che giustamente, essendo il territorio, è quello che ha cavalcato un po' i problemi della Val Vibrata da diverso tempo. Beh, guardi, noi abbiamo la fortuna di avere Dino Pepe in giunta e questo sicuramente ci fa piacere perché Dino Pepe rappresenta un po' la Val Vibrata, i sindaci, indipendentemente dal colore politico. Esatto. Effettivamente c'è una squadra di sindaci giovani, motivati, io sono il più vecchio dei sindaci. Una cosa strana perché quando sono... Diciamo il più esperto, dai. Quando sono arrivato ero il più giovane, quattro anni fa, adesso sono il più vecchio, quindi la squadra c'è, motivata, Pepe ci sta molto vicino, ci segue e questo ci fa molto piacere perché i risultati su un territorio si possono solo ottenere stando insieme, facendo squadra, soprattutto in questo momento difficile perché comunque sappiamo di sestito geologico, sappiamo di inquinamento dei fiumi, tutti questi argomenti che in effetti oggi sono fondamentali per il rilancio dei nostri territori. Ecco, Colonnella poi è un comune che, come tutti i comuni, diciamo a cavallo della costa, si mette un po' in luce durante l'estate per gli eventi, per il movimento turistico, però le chiedo, un qualcosa che sta cavalcando insieme agli altri sindaci, un problema che riguarda un po' tutti i comuni, ce n'è uno in particolare? Ma uno in particolare sì, noi soprattutto sulla depurazione, non ci scordiamo che noi abbiamo i fiumi, soprattutto in Vibrata, che tocca quasi tutti i 12 comuni e che l'anno scorso ha creato dei problemi per la bandiera blusi e a Martinsicuro e a Badiati, come il Tronto da quest'altra parte. Quindi il fatto che noi abbiamo tutti i comuni consorziati ci ha dato un vantaggio enorme per fare un progetto, poi proporlo alla politica regionale, con un finanziamento di 22 milioni di euro ottenuti, quindi abbiamo 4-5 progetti ormai in fase esecutiva, in fase di appalto, che nei prossimi due anni dovrebbero essere realizzati. Fra questi c'è la depurazione di Albatriatica, Albatriatica, Martinsicuro, Coronella e Corropoli, c'è Neretto, c'è Sant'Omero, c'è Sant'Egidio, c'è Vitella, tutti Tortoreto, depuratori, che porteranno sicuramente un grosso vantaggio sulla natura delle nostre acque. Perché non ci scordiamo che purtroppo tutti i fiumi vanno al mare, e quindi il mare, oltre lo spiaggiato, si trova anche l'acqua inquinata. Sindaco, l'ultima domanda, poi la lasciamo. Vista la sua esperienza, come diceva, non vecchio, si dice esperto, perché qua altrimenti non siamo più degni di quello che facciamo. Le chiedo se ha un sogno nel cassetto che le piacerebbe realizzare da qui a qualche tempo. Ma guardi, ognuno di noi sogna. Io sono sindaco da quattro anni, non sono tesserato politicamente, non faccio parte dei gruppi politici, sono a capo dell'olestia civica. La cosa bella che mi piacerebbe fare è fare tutto quello che un sindaco può fare in un momento così difficile, cioè creare posti di lavoro, quelli duraturi soprattutto, e danno aiuto alle famiglie. Si immagina che io sono un sindaco che non ha applicato la Tasi, l'unico comune della provincia di Termo che non ha fatto pagare la Tasi, per un motivo molto semplice, perché non volevo gravare i miei cittadini di altri 300-400 euro all'anno, soprattutto in questo momento difficile. Noi avevamo una zona industriale importante, con 2700 posti di lavoro, oggi ce ne sono circa 1400, e quindi lei può immaginare nelle famiglie giovani che sono cresciute, che vengono su, che si rivolgono al sindaco per cercare di trovare una soluzione. Non perché vogliono una raccomandazione, no, vogliono essere valutati sicuramente alle aziende per quello che sono, ma avere una notizia in più dove possono cercare un lavoro. Io alle aziende raccomando sempre, alle nostre aziende, quelle di cercare di inserire più colonnellesi possibili, cerchiamo chiaramente di tutelare i nostri cittadini, e questo è il mio sogno nel cassetto. Sindaco, la ringraziamo, le facciamo in bocca al loro per il suo lavoro e sperando di riaverla presto nei nostri studi. Grazie a lei. Grazie a voi.